Ho detto, in diretta siamo, occhio a quello che dici, ho detto, ho enfatizzato il tuo cognome dicendo Wally, prolungando la pronuncia per appunto evidenziare quella conclusione. Non ci hai pensato un attimo, appena ti è arrivata la sponda di Luis Fabian l'hai messa dentro. Assolutamente sì, non ci ho pensato un attimo, era troppo importante questa rimonta, ci ho creduto con tutto me stesso e ho tirato immediatamente subito dopo la sponda di Luis. Luis era troppo importante, sono andato a festeggiare subito con lui, un'emozione indescrivibile questa rimonta. A prescindere dalla questione anagrafica che ovviamente ti agevola per stare lì in mezzo al campo, vedo da parte di mister Epifani un'attenzione diversa nei tuoi confronti evidentemente perché puoi dare ancora di più. Ovviamente ti manca esperienza sempre per la stessa questione anagrafica, però con i piedi e con la testa sembri già sul pezzo dalla prima giornata di campionato. Certo, io ci sono sempre e comunque, il mister mi spinge, mi aiuta ogni giorno a migliorare e ci crede per primo lui come ci credo io, ci metto sempre tutto me stesso e credo in me stesso, in ogni cosa che faccio e forse è questo che mi aiuta a rimanere in mezzo al campo con la testa e con i piedi. La dedica perché è il tuo primo gol con questa maglia a livello ufficiale e soprattutto perché ha deciso il match. Certo, la dedica è ovviamente per mia madre che mi sostiene in tutto quello che faccio, qualsiasi cosa, ogni giorno, giorno dopo giorno e questo quello lo dedico a lei.